Ciao sono Antonio, imprenditore digitale e in questo video vi volevo raccontare di quella volta che acquistai Dogecoin per via dei tweet di Elon Musk. Comunque sia, prima di iniziare anche scusatemi se magari dietro di me c'è un po' di casino e perché appunto devo traslocare, ormai ci siamo, di qui a pochi giorni cambierò casa, cambierò abitazione, quindi poi anche questi sono gli ultimi video in cui vedrete questa stanza, questo sfondo e quant'altro. Difatti se non erro insomma lì dovrebbe esserci un pacco, poi se mi sposto anche qui ce ne sono altri, quindi sono un po' incasinato in questo momento, quindi scusatemi se magari vedete un po' di disordine. Comunque sia, tralasciamo il trasloco per un po' e vi volevo raccontare, appunto mi faceva piacere raccontarvi di questa mia esperienza personale riguardo questo acquisto che ho fatto della criptovaluta Dogecoin e questo l'ho fatto proprio per via di Elon Musk e quindi adesso vedremo il perché l'ho fatto, se ci ho guadagnato, insomma cercheremo di capire un poco anche quando questo è accaduto. E ci tengo anche a sottolineare che non sono un consulente finanziario, non do consigli di investimento, quindi io faccio soltanto vedere la mia esperienza personale e ognuno deve ragionare con la propria testa se poi vorrà decidere di investire in titoli azionari, ETF oppure ancora in criptovalute o quant'altro. Quindi quando è accaduto tutto questo? È accaduto a maggio del 2021 dove Elon Musk in quel periodo soprattutto e non solo, insomma anche attualmente magari ogni tanto fa dei tweet criptici dove cerca di magari anche in qualche modo muovere il mercato delle criptovalute quantomeno anche se in realtà sarebbe aggiottaggio questo quindi è un qualcosa che non si dovrebbe fare ma Elon Musk insomma sembra che lo stia facendo nonostante i potenziali problemi che potrebbe avere e comunque sia su Twitter andava a creare hype per quanto riguarda le criptovalute sia Dogecoin sia poi faceva salire Bitcoin e quant'altro magari non solo ovviamente legato a quello che lui scriveva ma anche insomma per altre motivazioni ovviamente magari saliva il valore e magari poteva anche essere momentaneo e ci potevano essere dei pump e dump quindi delle salite molto repentine e veloci per poi esserci una discesa anche abbastanza preoccupante quindi ovviamente bisogna stare molto attenti su queste cose e comunque ho ritenuto interessante proprio il periodo di maggio perché è successa una cosa un po' particolare rispetto all'usuale insomma perché anche ad aprile anche in mesi precedenti andava appunto facendo questi tweet però io non mi ero mai mosso non avevo mai fatto un acquisto di criptovalute qualsiasi semplicemente perché lui scriveva magari qualcosa al riguardo ma poi dopo appunto un certo periodo il 28 aprile del 2021 scrisse proprio The Dogefather SNL May 8 insomma molto criptico appunto e adesso vi spiego che cosa significa così appunto da capire meglio The Dogefather insomma è semplicemente una sorta di meme una sorta di scherzo per intendere insomma il padrino dei Doge semplicemente voleva magari dire questo come se lui fosse il padrino dei Dogecoin SNL invece sta per Saturday Night Live quindi sarebbe lo show che è molto famoso negli Stati Uniti che si svolge proprio in determinati periodi il sabato notte insomma in diretta quindi appunto da qui prende il nome e quindi poi scrive maggio 8 maggio e quindi praticamente questo a molti aveva fatto intuire che lui sarebbe stato presente l'8 maggio al Saturday Night Live cosa che poi è stata e magari avrebbe parlato anche del Dogecoin beh molto interessante perché questo molto probabilmente avrebbe fatto salire il Dogecoin alle stelle insomma to the moon come si suol dire se non addirittura appunto a valere magari un dollaro credo non ci sia mai arrivato un dollaro forse 0,90 o qualcosa del genere è stato il prezzo massimo di Dogecoin comunque molti speravano insomma che si potesse raggiungere anche un prezzo del genere e sicuramente insomma era interessante anche capirne di più insomma quantomeno assistere allo show cercare di capire come si sarebbe mosso poi il prezzo di Dogecoin appunto per via di questo annuncio e successivamente anche che cosa sarebbe successo quindi dopo questo tweet già il prezzo del Dogecoin stava incominciando a lievitare quindi sarebbe stato anche secondo me opportuno acquistare direttamente dopo questo tweet però appunto anche si doveva interpretare si doveva capire se effettivamente era lui a presenziare allo show o meno ovviamente in quel momento non si sapeva bene quindi poi anche ha incominciato a scrivere il 2 maggio sto insomma buttando delle idee per il Saturday Night Live insomma sto cercando di scrivere qualcosa per magari fare uno sketch dire qualcosa anche alla presentazione insomma dato che chi effettivamente è ospita al Saturday Night Live poi lo presenta effettivamente lui ci sono stati insomma tanti presentatori molto famosi e quindi poi chiedeva che cosa dovrei fare e quindi questo ovviamente era la cosa certa che poi lui effettivamente sarebbe stato presente come presentatore a questo show e quindi molte persone ovviamente gli andavano a consigliare delle cose e tutti gli dicevano parla di Dogecoin cerca di fare uno sketch al riguardo insomma quantomeno nominalo cerca di fare un qualcosa perché ovviamente anche non è che puoi dire in uno show in diretta comprate tutti Dogecoin non è una cosa che si può fare perché altrimenti veramente poi ti fanno insomma dei problemi legali e questo ovviamente per quello che vi dicevo prima non puoi influenzare il mercato non puoi fare aggiottaggio perché altrimenti poi ne paghi le conseguenze perché è una cosa che appunto non si può fare questa manipolazione di mercato poi viene condannata proprio perché magari sei una persona influente una persona conosciuta e quindi non ti puoi permettere di fare una cosa del genere e quindi ovviamente o la si fa in maniera mascherata diciamo così cosa che effettivamente ha fatto quindi interessante anche questo oppure insomma non la fai proprio fatti tutti questi tweet ce ne sono stati molti altri questi erano soltanto insomma quelli principali quelli insomma che vi ho fatto vedere un po' come esempio poi praticamente io decisi di acquistare il 3 maggio del 2021 e poi anche ho fatto un secondo acquisto di Dogecoin il 4 maggio del 2021 comunque andiamo con ordine perché adesso vi dirò esattamente di quanto un po' appunto per gioco io per me andava bene anche perdere tutta questa somma quindi io semplicemente ho voluto fare questa prova giusto perché appunto per me era quasi un gioco una scommessa insomma una cosa che per me andava bene di fare perché appunto non mi cambiava nulla anche se avessi perso tutti questi soldi che ho investito adesso vi dirò esattamente quanto ho investito se ho perso, se ho guadagnato eccetera eccetera quindi vi darò veramente tutte le specifiche con la schermata che mi compare di eToro dove effettivamente ho investito in questo caso e semplicemente ho usato eToro perché volevo provare meglio insomma questa piattaforma dato che spesso testo varie piattaforme che magari non conosco bene e quindi quale migliore occasione per testare una piattaforma come questa più a fondo se non con un investimento che ho fatto appunto un po' per gioco ho acquistato 1746,38 Dogecoin appunto il 3 maggio del 2021 qua ho scritto tutto per questo sto leggendo quando il valore era di 0,4088 quindi circa 40 centesimi di dollaro e quindi per intenderci ho investito un totale con questo primo acquisto di 713,92 dollari dollari americani poi ho fatto appunto un secondo acquisto il giorno successivo il 4 maggio del 2021 ho acquistato 3828,59 Dogecoin quando il valore era ormai salito comunque però ho deciso comunque di investire ancora il valore infatti era di 0,5527 quindi insomma circa 55 centesimi di dollaro e quindi ho investito un totale di 2116,06 dollari americani per questo secondo acquisto quindi in totale ho investito 2829,98 dollari il 9 maggio invece ho deciso di vendere tutto il 9 maggio però mi riferisco per l'ora italiana per quanto riguarda gli Stati Uniti se non erro insomma era ancora l'8 maggio insomma l'8 maggio di sera tardi quindi quando effettivamente stava per cominciare o era insomma cominciato veramente da pochissimo il Saturday Night Live quindi quello è stato il momento in cui io ho deciso di vendere tutto all'inizio ho venduto soltanto il primo acquisto che ho fatto quindi quello di meno Doge però che insomma erano presi ad un prezzo inferiore e quindi li ho venduti quelli al valore di 0,56 centesimi di dollaro all'incirca quindi di quella cifra che avevo investito 713 dollari poi ci ho fatto un profitto ci ho guadagnato 265,45 dollari americani ho venduto subito dopo anche il secondo acquisto che ho fatto quindi ho venduto gli altri 3828 Doge circa quindi poi il valore era praticamente il medesimo è sceso leggermente insomma era di 0,5604 invece di 0,8 e quindi poi di quelli che ho investito 2116 dollari ci ho guadagnato 29,48 dollari perché appunto il prezzo comunque era molto vicino a quello a cui li ho acquistati per questo secondo acquisto sono tante cifre lo so però spero che si sia capito e che insomma siate riusciti a starmi dietro quindi ho investito come vi dicevo 2829,98 dollari quindi poi ho venduto tutto per un totale insomma di 3124,91 dollari e quindi il guadagno totale è stato di 294,93 dollari poi ovviamente si può fare la conversione in euro insomma comunque siamo lì quindi da questi acquisti di Dogecoin poi alla fine ci ho anche guadagnato e quindi ovviamente è stata un'esperienza positiva per quanto mi riguarda ma perché ci ho guadagnato? perché intanto ovviamente c'è stato un po' di fortuna questo non lo nego però anche io è da tanto tempo che analizzo insomma l'andamento delle cripto e da anni che ci investo so insomma un minimo come funziona il tutto quindi anche per questo insomma sapevo quello che stavo facendo alla fin fine ho fatto il cosiddetto by the rumor sell the news quindi praticamente acquista quando c'è una voce di magari che sta iniziando un evento che sta succedendo un qualcosa di particolare nel mondo cripto così come magari può avvenire in altri ambiti e poi vendi quando effettivamente sta iniziando proprio la notizia quando sta per essere pubblicata insomma in questo caso quando sta per iniziare lo show e meno male che l'ho fatto perché appunto altrimenti ci avrei perso per me non sarebbe stato tanto un problema perché appunto come vi dicevo ho investito solo quello che mi potevo permettere di perdere senza alcun rimorso e poi semplicemente quando è iniziato lo show il prezzo del dogecoin effettivamente stava incominciando a calare sempre di più e soprattutto appunto c'è stato magari un picco quando all'inizio dello show ha cantato Miley Cyrus perché io ho visto lo show in diretta dato che appunto è stato verso le 3 di notte in ora italiana ma comunque me lo sono voluto vedere perché appunto a me piace sempre vedere imprenditori come Elon Musk insomma che magari parlano e fanno anche degli sketch perché no come in questo caso è avvenuto e insomma me lo sono goduto tranquillamente perché su YouTube si vedeva gratuitamente quindi l'hanno voluto mettere gratuito a tutti e insomma appunto cantava all'inizio Miley Cyrus e già incominciava a scendere il valore poi è apparso Elon ed è sceso ancora di più in maniera veramente pazzesca molti non se lo aspettavano ma invece insomma così funziona molto spesso nel mondo cripto e non solo quindi io sapendolo ho venduto tutto prima invece molti si aspettavano che con Elon che si sarebbe fatto vedere poi di lì a poco il prezzo sarebbe schizzato ancora di più alle stelle e invece così non è accaduto c'è chi infatti magari ci è rimasto male e effettivamente magari ci ha perso dei soldi anche più di quello che si poteva permettere di fatti non è così che si investe secondo me e praticamente poi anche poi c'è chi comunque ha aspettato non ha venduto subito perché poi effettivamente ci sono stati anche dei periodi dove il doge poi rispetto a quello show poi magari nei mesi a seguire eccetera eccetera poi magari è salito anche di più rispetto a quando c'è stato veramente quel ribasso molto elevato quando c'è stato questo show quindi poi ognuno ovviamente ha cercato di limitare le perdite per quel che poteva oppure appunto c'è chi ci ha guadagnato come me e se avessi investito ancora prima tra i primi tweet che aveva fatto insomma ovviamente ci avrei guadagnato ancora di più infatti se voi andate a vedere le notizie relative a quell'evento adesso sono andato su money.it qua viene riportata la notizia di dogecoin che fa un meno 30% il minimo penso sia stato ancora peggiore quindi questo meno 30% è anche forse troppo positivo perché mi ricordo che c'è stato veramente una grossa candela rossa comunque durante l'apparizione di Elon Musk al Saturday Night Live quindi direttamente le notizie vi dicono effettivamente la notizia vi dicono è calato tantissimo quando appunto è apparso Elon Musk e poi se è del 30% di più di meno adesso ovviamente non vi so dare la specifica con esattezza e poi comunque sia man mano come vi dicevo magari si è pure ripreso insomma a seconda insomma poi di come gli investitori andavano ad acquistare o vendere comunque sia insomma così è andata e quindi possiamo anche capirne di più da questa anche mia stessa esperienza io stesso appunto sono contento di aver fatto tutto questo perché anche è stato un modo per imparare ancora di più spero che questo mio racconto vi sia piaciuto anche se ne volete altri me lo fate sapere nei commenti perché avrei anche un'altra storia almeno da raccontare riguardo un qualcosa di similare e poi insomma se volete qui sotto in descrizione trovate il progetto Freedom che è il mio percorso di formazione sul dropshipping e non solo quindi all'interno trovate veramente di tutto e di più per guadagnare online quello ormai di cui io mi occupo da anni e quindi io guadagno tramite la vendita in e-commerce quindi è un qualcosa anche che ho voluto andare a divulgare insomma così anche altre persone possono decidere di intraprendere questo percorso e guadagnare online tramite la vendita di prodotti sia fisici che digitali quindi spiego veramente il tutto a 360 gradi se quindi volete capirne di più e andare a guadagnare anche voi in questo modo potete trovare il link del sito nella descrizione oppure nel primo commento in evidenza e poi potete accedere al relativo corso quindi con questo direi che è veramente tutto per oggi se volete potete lasciarmi un mi piace mi fa solo che piacere perché appunto se è stato di vostro gradimento così me lo fate capire insomma così posso decidere anche di fare altri video a riguardo e poi anche se volete appunto condividere questo video con altre persone aiutate il canale a crescere così anche iscrivendovi appunto a questo così da non perdere i successivi contenuti quindi noi ci vediamo come sempre al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti